Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei racconti del nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e l'episodio di oggi sarà però un po' diverso dal solito. Dobbiamo infatti raccontare la storia della missione Coolant destinata alla zona nord-est di Udile. Tuttavia, per farlo, occorre introdurre il suo capomissione, il maggiore Tommy McPherson, come abbiamo fatto per tutti i capomissioni finora. Però McPherson ha una particolarità. La sua storia, prima della Coolant, è talmente ricca di eventi che potrebbe essere un film. Raccontarla, quindi, nell'episodio dedicato alla missione, porterebbe via troppo tempo e sarebbe una digressione inutile. Questo episodio, quindi, sarà dedicato interamente a McPherson e non a una missione. Ci occuperemo della gente e delle sue attività nei quattro anni prima del suo rivelo in Italia, o meglio, del suo ritorno in Italia. Ma questo lo vedremo in seguito. Questo episodio sarà quindi diverso dal solito, ma spero comunque che vi possa piacere. McPherson passò la sua infanzia in India, essendo il figlio di un membro della vasta burocrazia che amministrava l'impero britannico. A tre anni, il bambino tornò a casa di famiglia, nella meno solare Edimburgo, per iniziare le scuole. McPherson fu uno studente dotato sia intellettualmente che atleticamente e, nel 1939, stava aspettando il risponso della sua domanda di ammissione al Trinity College di Oxford, quando Hitler invase la Polonia. Dopo i primi mesi di guerra e la caduta della Francia, si arruolò volontario negli Scottish Commandos e fu spedito in Medio Oriente all'inizio del 1941. Qui partecipò alla campagna di Siria, uno dei fronti forse meno noti della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in Italia. La Siria era formalmente sotto mandato francese, e questo era il termine che si usava, appunto, mandato, per non dire invece occupazione coloniale, ma non divaghiamo. Dunque, dicevamo, la Siria era formalmente sotto occupazione francese. Tuttavia, la Francia era stata occupata dalla Germania, e le sue colonie erano ora sotto il controllo del regime fantoccio di Vichy. Gli aeroporti siriani poterano quindi essere usati dai bombardieri tedeschi per attaccare l'importantissimo canale di Suez. E occorrerà quindi, per proteggere l'Egitto e il Mediterraneo orientale, che questi territori fossero tolti alla Francia. Fu così che MacPherson ebbe il suo battesimo di fuoco, e anche la sua promozione a capitano. Il giovane, all'epoca appena ventunenne, doveva aver fatto una buona impressione, perché di lì a pochi mesi si trovava ad Alessandria d'Egitto, sulla HMS Medway, una nave deposito per sottomarini. Il piano in cui era stato coinvolto era quello di inviare coppie di uomini con un piccolo sottomarino a sbarcare sulla costa libica, perché trovassero un punto adatto per inviare un commando a creare una testa di ponte, e quindi tagliare le retrovie delle truppe italiane, che stavano in quel momento attaccando l'Egitto. L'operazione, perlomeno nella sua prima parte, filò liscia come l'olio. Usando una piccola canoa, MacPherson e il suo compagno riuscirono effettivamente a sbarcare, e compirono una ricognizione della zona. Però, quando tentavano di tornare al sottomarino, non trovarono nessuno da aspettarli al luogo convenuto. Andò così la prima notte, e poi anche la seconda. Senza perdersi d'animo, comunque, i commandos decisero di nascondere le canoe e farsela a piedi fino all'Egitto. Le avventure di MacPherson in Libia, raccontate forse in un modo anche un po' romanzato da lui stesso, sono contenute nella sua autobiografia, Behind Enemy Lines, e comprendono l'aver ucciso un Doberman armato solo di coltello, e l'audace furto di alcune pagnotte da una tenda piena di soldati tedeschi. Alla fine, però, lui e il suo compagno, il caporale Evans, furono catturati da una pattuglia di soldati italiani, che avevano un vantaggio schiacciante su di loro. Erano in bicicletta. I due furono quindi spediti in Italia come prigionieri di guerra, attraversando vari campi di prigionia, fino al castello di Montalbo. MacPherson in questo periodo inizia a imparare la lingua, perché nella sua testa questo era un requisito importante se voleva fuggire. Nonostante i suoi propositi, però, la sua permanenza in campi di prigionia dovrebbe essere ancora molto lunga. Infatti, non solo non riuscì a sfuggire all'ospitalità degli italiani, ma, dato che era considerato a questo punto un prigioniero piuttosto problematico, fu trasferito da Montalbo a Gavi, in Piemonte, dove la locale fortezza seicentesca era stata rimodellata in un campo di prigionia di massima sicurezza, per i cosiddetti bad boys. Il Maggiore ricorda, nelle sue memorie, che il castello lo impressionò molto, arroccato sulla collina, e che aveva una bellezza imponente. A Gavi la fuga era quasi impossibile, ma questo non impedì a MacPherson ed altri di tentare. I loro tentativi furono frustrati, tuttavia, ben presto, arrivò l'armistizio dell'8 settembre 1943, e i tedeschi, che avevano preso possesso del campo, trasportarono i prigionieri ad Alessandria, per poi inviarli in Germania. MacPherson tentò la fuga durante questo spostamento, ma fu scoperto. Per niente scoraggiato, in un campo di transito in Austria, unì le forze con altri due prigionieri, due neozelandesi, Armstrong e Yeoman, con i quali escogitò un piano di fuga. Il campo, in cui erano stati messi a sosta, infatti, confinava con altri due campi, uno di prigionieri francesi ed uno di prigionieri russi. Russi e francesi, che erano nei loro campi, non per essere deportati in Germania, ma per restare lì, erano impiegati come mano d'opera, lavorando come manovali per i tedeschi, soprattutto nelle aziende agricole. I tre, quindi, decisero che si sarebbero travestiti da operari francesi e sarebbero usciti dal campo sotto il naso dei loro carcerieri. Un piano semplice, che funzionò alla perfezione. Ovviamente, ogni gruppo, britannici, francesi e russi, era inchiuso in una sua area, delimitata da recensioni e filo spinato. Ma la recensione tra il campo britannico e quello francese fu facile da tagliare, e i francesi furono ben contenti di aiutare i fuggiaschi, lasciandoli mescolare tra loro. McPherson, Armstrong e Yeoman, quindi, lasciarono il campo dalla porta principale, andando con i francesi al lavoro e semplicemente non tornando più indietro. I tre marciarono lungo il fiume Drava, uno degli affluenti del Danubio, che scorre essenzialmente lungo il confine italo-ostriaco. Lungo la strada si imbatterono anche in due sudafricani, che avevano attuato il loro stesso identico piano di fuga, ma decisero di non unire i due gruppi, per non diventare troppo numerosi e quindi non dare troppo nell'occhio. Arrivati al ponte sul Drava, lo trovarono sorvegliato. Le sentinelle, però, erano due soldati tedeschi di mezza età, che diedero a McPherson l'impressione di non essere troppo felici di trovarsi lì. Il maggiore li apostrofò in francese, lasciandosi andare a una fiumana di parole che li travolse, spiegando perché dovevano assolutamente passare quel ponte, che in teoria delimitava la zona oltre la quale i prigionieri francesi non era concesso andare. I due tedeschi in realtà li lasciarono passare senza opporre troppa resistenza. Dopo una lunga marcia, i tre varcarono il confine e giunse infine al villaggio di Chiusaforte. E qui fu la sfortuna a tradirli. Mentre McPherson e Armstrong passarono davanti a un'osteria, infatti, da questa uscì un folto gruppo di carabinieri soldati tedeschi, che, insospettiti dalla loro presenza, i piombò addosso. I due tentarono di difendersi dicendo che erano operai franco-croati e che dovevano lavorare alla vicina stazione ferroviaria. Tuttavia, su Armstrong, colpevole in questo forse di eccessivo sentimentalismo, fu trovata una lettera della moglie, che quindi bruciò questa storia che si erano inventati. Il marshal dei carabinieri, capito che McPherson parlava italiano, quasi lo improverò, dicendogli che se li avessero contattati li avrebbero fatti passare nel paese alla catichella. L'italiano arrivò anche a chiedere al sergente tedesco che comandava le truppe di lasciare i prigionieri in custodia i carabinieri, ma questi rifiutò. Evidentemente, non si fidava troppo. Armstrong e McPherson furono quindi caricati sul nuovo treno, che stavolta li portò effettivamente in Germania, in Prussia orientale, dove passarono tra le mani della Gestapo. Quanto a Yehrman, che non fu catturato a chiusaforte, fu comunque ripreso pochi chilometri più a sud, e anche lui spedito in Germania. Alla fine, comunque, dopo essere passati attraverso vari interrogatori, sia McPherson che Armstrong furono spostati di nuovo, questa volta nello Stalag 20A, un campo di prigionia sul confine tra Polonia e Germania. Tuttavia, McPherson a questo punto era un vero e proprio professionista delle fughe, e ci mise poco a trovare una via d'uscita, sempre con il fidato Armstrong. A dirla tutta, la sorveglianza del campo era piuttosto lasca. I prigionieri, tutti ufficiali, avevano ormai corrotto da tempo le guardie, ed esisteva un fluido commercio con la borsa nera locale, grazie ai pacchi di provviste che la Croce Rossa contrabbandava per i prigionieri. Per la prima volta in due anni, così, McPherson poteva mangiare delle uova, ma questo fu nulla quando scopriva stare fatto che alla mensa del campo servivano perfino il gelato. Ad ogni modo, fu grazie ai contatti di un ufficiale neozelandese, il capitano Cook, che si chiamava proprio così, anche se sembra quasi una barzelletta, che McPherson riuscì a entrare in contatto con il capo del mercato nero locale, Joe Jotkovisky, che offrì ai due ufficiali un passaggio per la cittadina di Gdynia, poco fuori da Danzica. Il loro posto al campo fu preso da due fantasmi, ovvero sia due prigionieri che non erano mai stati registrati, nonostante la tanto decantata efficienza burocratica tedesca, queste cose succedevano, e che quindi potevano prendere il loro posto occupando le loro celle e rispondendo all'appello mattutino. Tuttavia, nonostante tutti gli elementi favorevoli, non era comunque facile fuggire da questo campo, che aveva non una, ma ben tre recinzioni. Superare la prima non fu troppo difficile. McPherson e Armstrong, mescolati a un altro gruppo di prigionieri, si fece una passeggiata uscendo da questa prima recinzione, e, una volta arrivati all'altezza di una baracca, ci si infilarono dentro, abbandonando il gruppo che tornò indietro, facendo finta di niente. Questa baracca era la chiave per superare anche la seconda recinzione, perché era occupata da due soldati neozelandesi, i quali gestivano l'allevamento di conigli del campo, che forniva la carne sia ai prigionieri che alle guardie. E questi due, per via del loro lavoro, poterono girare quasi liberamente, e decise di approfittare di questo momento per unirsi anche loro alla fuga. Inizialmente McPherson non ne voleva sapere, perché era una variazione non concordata del piano. Tuttavia, i neozelandesi insistettero, e c'era ben poco che McPherson potesse fare per respingerli. Il gruppo aspettò così un altro giorno, e dopo essersi cambiati in abiti civili che avevano acquisito in precedenza, tagliarono la recinzione, trovandosi così all'interno dell'ultimo anello che componeva il campo. La barriera esterna era particolarmente robusta, e l'entrata era costituita da una cancellata di ferro, sorvegliata da una sentinella. Sentinella che però quella notte non era lì. Il motivo è che si era fatto dare una bella mazzetta per farsi gli affari suoi. A quanto pare questa era a passi comune da parte di uno dei due neozelandesi, che aveva trovato una fidanzata polacca in un borgo vicino, e che quindi spesso la notte si assentava per andare a trovarla. Alla sentinella corrotta fu fatto credere che questa fosse semplicemente l'ennesima uscita del Don Giovanni, e non la fuga di quattro persone. Fu così quindi che il gruppo semplicemente aprì il cancello incustodito, e si dileguò nella notte. Il punto concordato per incontrarsi con Jotkowski era in un bosco, l'orario concordato erano le 7, le quali puntualmente arrivarono, ma del polacco non c'era traccia. Si fecero le 7 e un quarto, poi le 7 e mezza, e ancora niente. Infine, poco prima delle 8, si sentì il rumore di un motore. I quattro scattarono in direzione del furgone che era appena apparso alla vista, e si catapultarono al suo interno. Jotkowski si rimise in moto prima ancora che riuscissero a chiudere i portelloni, e guidò con notevole sfrontatezza attraverso la vicina città di Thorun, dirigendosi verso nord, appunto verso il porto di Gdynia. Qui riuscirono a farsi imbarcare su un battello svedese, che li portò all'isola di Gotland, da dove contattarono il console britannico a Stoccolma. Due anni dopo essere stato catturato in Nord Africa, MacPherson era di nuovo in Scozia, era stato promosso a maggiore per meriti, e non aveva intenzione di riposarsi. Appena arrivato, fu subito spedito agli uffici dell'SOE, che aveva certamente interesse in un individuo simile. Vi fu proposto di precadutarsi in Francia, con una missione chiamata Kinin, per galvanizzare la resistenza locale e dare assistenza allo sbarco in Normandia. MacPherson non si fece pregare. La Kinin era composta da tre persone, MacPherson stesso, Michel de Bourbon Parme, un ufficiale francese, e il sergente Arthur Brown, il radiotelegrafista. I tre svolse un ultimo lancio di prove in Marocco, sulle montagne dell'Atlante, prima di essere sganciati, nella notte dell'8 luglio 1944, vicino al villaggio di Aruyac, non lontano da Vichy. Nelle settimane seguenti, per MacPherson e i suoi, non ci fu un attimo di respiro. La Maquis francese stava attaccando i tedeschi in forze e i comandi volevano che la resistenza tenesse occupate il più alto numero possibile di truppe nemiche per evitare che i tedeschi si concentrassero in Normandia. Proprio la necessità di rallentare le truppe del nemico dirette a nord condusse ad uno degli explopi spettacolari di MacPherson in Francia. Fu infatti avvisato che una colonna corazzata tedesca si stava muovendo sulla strada da Fijac, a Tull, procedendo verso nord. I tre agenti si caricarono sulle spalle tutto l'esplosivo che potevano e si precipitarono a Beneteau dove una banda di partigiani stava ingaggiando le avanguardie nemiche ad un guado. Ben presto MacPherson si rese conto che i partigiani erano troppo pochi e troppo malarmati per tenere testa i tedeschi. Sulle orme di quinto Fabio Massimo il temporeggiatore e quindi decise di adottare una strategia di mordi e fugi. Avviò quindi una serie di azioni di disturbo fatte di imboscate, attacchi e sabotaggi lungo la strada contro la colonna. I tedeschi furono costretti a fermarsi più volte, smontare dai panzer e ripulire la strada da mine, ostacoli e trappole posizionate dai partigiani. Tuttavia ogni volta che lo facevano i partigiani spuntavano fuori dal nulla, sparavano un paio di sventagliati di mitra e poi sparivano di nuovo. Fu proprio grazie a questa azione che la colonna nemica non arrivò mai sulle spiagge della Normandia mentre infuriava la battaglia. MacPherson continuò ad agire in Francia con i suoi partigiani essenzialmente indisturbato fino alla metà di agosto 1944 quando gli alleati sbarcarono anche sud in Provenza. In questa fase la sua missione fu incaricata di distruggere i ponti sul Massif Central in modo che le truppe nemiche rimaste intrappolate in questa sacca non avessero vita facile nel cercare la ritirata. Il maggiore portò a termine questo compito ricevendo anche la resa di consistenti forze tedesche e fu anche coinvolto nella caccia al fuggitivo Pierre Laval primo ministro della Repubblica di Vichy ricercato per alto tradimento e per aver consegnato migliaia di ebrei ai nazisti. Tuttavia non fu lui a mettergli il sale sulla coda e Laval sarà poi protagonista di un processo molto controverso che finirà con la sua esecuzione. Finiscono così le avventure del maggiore McPherson prima del suo arrivo in Italia con la Coulant. Come abbiamo visto si era già ampiamente distinto come ufficiale capaci ed efficiente e quanto a distinzione McPherson è un vero recordman perché è considerato l'ufficiale britannico più decorato di sempre. Proprio per questo motivo fu scelto come ufficiale di collegamento per una zona così difficile al confine con la Jugoslavia. Era un po' possiamo dire l'omologo di McDonald che era stato inviato in Piemonte e anche lui perché era un ufficiale di grande esperienza che aveva già combattuto in Francia. E nonostante tutta questa esperienza però ben poco poterà prepararlo alla situazione che trovò in Friuli dove la terra era più dura e più avara di cibo che in Francia e le dispute politiche tra i partigiani ben più gravi. Per raccontare di questo però io vi do appuntamento la prossima settimana per tornare di nuovo sulle tacce di MacPherson. la prossima settimana e la prossima settimana